Io credo che ci si produrrebbe, in caso di vittoria del no, una situazione dove il funzionamento delle istituzioni rimane bloccato come lo è oggi e domani avremmo una situazione di instabilità, di difficoltà a ricostruire la rappresentanza del nostro Paese che sappiamo bene l'incertezza di essere un veleno per l'economia, quindi dei danni sicuramente quel tipo di risultato al nostro Paese ne produrrebbe.